Gestire efficacemente lo stress. Tutto quello che devi sapere, tutto quello che puoi fare e quello che devi evitare di fare per gestire in modo efficace lo stress, soprattutto dal punto di vista scientifico. Lo stress. Lo stress probabilmente è uno dei temi più diffusi sul pianeta e di cui si sa di meno. E lo stress è importante da gestire, sapere quando serve e quando no, sapere come funziona per poterlo far funzionare a nostro piacimento. Soprattutto è importante, parlando di stress, liberarci una volta per tutte di quelle idee, di quei miti farlocchi che non solo non ci aiutano a migliorare lo stress, ma addirittura ce lo possono peggiorare. Ecco, in questo video affronterò queste grandi tematiche. Strumenti pratici, concreti, cose che funzionano, cose che servono. Così che anche tu possa utilizzarli fin da subito e ottenere immediatamente i risultati desiderati. Allora, partiamo subito da un presupposto. Senza lo stress io non sarei qui a fare questo video per te. Perché in generale, senza lo stress, saremmo estinti proprio. Lo stress è utile, lo stress ci serve. E quindi ti dico subito che tutti quelli che demonizzano lo stress, in realtà, spesso, secondo me, sanno poco, poco di quello di cui stanno parlando. Perché lo stress ci serve, è un meccanismo di difesa, di sopravvivenza, ovvio che va gestito, va dosato, va saputo utilizzare. Se io, prima di venire a fare un video in cui ti parlo di questo argomento, non avessi avuto un po' di stress, se il mio collaboratore non mi avesse creato un po' di stress, probabilmente farei questo video dormendo. E questo non va bene. Lo stress serve. L'importante è sapere quanto serve, quando serve, e soprattutto come gestirlo. Quindi come attivarlo. Quando è necessario, per esempio, prima di fare una presentazione in pubblico, prima di creare un video, una riunione. E quando invece calmarlo. Il dosaggio giusto. Insomma, parafrasando me stesso, invece delle parole giuste nel giusto ordine, gli ormoni giusti nel giusto ordine. Entriamo subito nel vivo. Una definizione e una bufala. Anzitutto la differenza importante che c'è tra l'eustress, il cosiddetto stress positivo, e il distress, che invece è lo stress cosiddetto negativo. Ti faccio un esempio. Il fatto che io stia parlando adesso davanti a te, ha richiesto un po' di stress. Si chiama eustress. Fa bene, mi serve. Mi aiuta a produrre ormoni, tra cui per esempio il cortisolo, che viene chiamato ormone dello stress, e che però a volte è buono. Quindi, ad esempio, ora sono più concentrato, più a focus, proprio grazie all'eustress. Se io però, quando me ne torno a casa, mi porto dietro tutta la tensione della registrazione, quello diventa un eccesso di stress. Diventa di stress. È quello che noi dobbiamo imparare insieme a eliminare. E di certo, e questa è la bufala, non lo possiamo fare, per esempio, sfogando la nostra aggressività, lanciando cuscini, rompendo piatti, colpendo il sacco da box, urlando a squarciagola, come alcuni psicologi, peraltro, suggeriscono. Perché si tratta, dice la scienza, di attività che peggiorano lo stress, che aumentano l'aggressività delle persone che lo praticano, e quindi che si rivelano, nel medio e lungo periodo, dannosi per chi dello stress, purtroppo, vuole fare un po' a meno. Così come dici, stai. Questo è uno dei miei motti, che in questo caso, soprattutto, ha una valenza di straordinaria importanza. Perché, e qui entriamo nel campo delle metafore incarnate, il modo in cui tu definisci lo stress, determina il modo in cui stai. Lo stress per te è un nemico da combattere? Ebbene, stai molto attento, perché pensare allo stress in termini di guerra, nemico da combattere, aumenta la produzione di ormoni dello stress. Mette il tuo cervello, il tuo cervello limbico in allarme, la tua amigdala, la ghiandola che si occupa di proteggerti, entra in stato di fortissimo allarme, e quindi avrai una serie di reazioni, che sono proprio quelle che tu avresti voluto, in realtà, evitare. Quindi, uno dei modi più efficaci e scientificamente corretti per gestire lo stress è nominarlo in modo diverso. Niente metafore legate alla guerra, niente nemici da combattere, niente battaglie da vincere, nessuno da sconfiggere, perché queste parole producono stress. Parliamo invece di percorsi da affrontare, parliamo di opportunità da cogliere, parliamo di sfide da gestire, di situazioni da risolvere. Tutti questi frame, cioè questi modi di definire lo stress, aiutano il tuo cervello a vedere le cose in maniera molto diversa, e quindi a farle diventare estremamente reali. Così come dici, stai, scegli parole buone, e lo stress, che fino a prima era un nemico da combattere, diventerà semplicemente una delle tante situazioni che devi risolvere. Cambia le parole, cambia gli ormoni che hai nel tuo corpo, cambia quindi il modo che hai di affrontare la situazione. Come ci si libera, quindi, dello stress? Beh, è chiaro, sfogandoti con gli altri, raccontando i tuoi problemi agli altri. No, no, in realtà, perché, primo, stai sulle scatole agli altri, rendi la loro vita decisamente poco simpatica. Seconda cosa, perché il parlare dei tuoi problemi aumenta la percezione che hai dei problemi stessi, peggiora la situazione. Usciamo dalla logica del fatto che raccontare le proprie cose agli altri aiuti a rilassarsi, perché l'effetto è breve, di brevissimo periodo, e poi ti peggiora. Vuoi modo davvero efficace per liberarti dalle situazioni? Scrivile. Io, per esempio, ho gestito tutti i problemi della mia infanzia scrivendo romanzi. Puoi scrivere, perché l'atto dello scrivere ti dissocia dalle emozioni che senti legate ai ricordi. E, come diceva Wittgenstein, o di una cosa puoi parlare bene, o meglio tacerne. Quindi, la prossima volta che vuoi sfogarti con qualcuno dei tuoi problemi, pensaci e poi evita di farlo. Adesso è il momento zen. Due strumenti pratici che, sebbene siano attribuiti spesso alla filosofia orientale, in realtà sono molto scientificamente verificabili anche dal punto di vista occidentale. Quindi, quale che siano le tue preferenze, due strumenti in cui tu puoi mettere in ordine il tuo cervello e i tuoi pensieri. Il primo riguarda la presenza mentale e il secondo riguarda la respirazione consapevole. Presenza mentale. Questo esercizio è molto facile, puoi farlo dovunque, sempre, in qualsiasi contesto. Ricordati che, contrariamente a quello che ti dicono, il tuo cervello non è multitasking. Può pensare soltanto a una cosa alla volta. A volte. Quindi, che cosa puoi fare? Se hai una serie di pensieri che ti provocano stress, concentrati su qualcosa di esterno, di estraneo. Potrebbe essere la penna, potrebbe essere l'orologio, potrebbe essere il tuo paio di occhiali. Concentrati sull'oggetto che hai in mano. Analizzalo in ogni dettaglio. Diventa consapevole di tutte le sensazioni che magari ti dà al tatto. Se ha un odore, annusalo. Più dettagli riesci a recepire da questa esperienza, più il tuo cervello è concentrato sul qui e ora. Un principio che, ti ripeto, è spesso utilizzato nella filosofia orientale, ma che è un principio assolutamente trasversale. Altra tecnica che puoi utilizzare in aggiunta a quella della presenza mentale oppure in alternativa, dipende dal contesto o da come ti senti, è quella della respirazione consapevole. Ebbene, in questo caso ci sono davvero tantissime ricerche che dimostrano come una grande consapevolezza nel respiro migliori le condizioni neurofisiologiche, migliori il livello di ormoni che hai nel sangue, migliori l'ossigenazione. Quindi queste cose poi si traducono in benessere. Ci sono molti modi per respirare in modo consapevole. Scegliene uno che ti piace. Io ti suggerisco la tecnica che consiste in tre passaggi. Tre passaggi in cui inspiri contando qualche secondo in base alla capacità iniziale che hai. Ipotizziamo fino a tre. Adesso la parte in cui devi trattenere, io evidentemente parlo perché altrimenti è difficile trattenere il fiato e raccontarti come si fa quindi inspiro fino a tre, trattengo tre, espiro tre. Quindi per esempio e poi ripetere questa cosa tutte le volte che vuoi puoi aumentare il numero di secondi di ispirazione, trattenimento e ispirazione. fallo all'inizio se non sei abituato con calma perché potrebbe girarti un po' la testa e ossigeno al cervello. Io sul respiro ti ho dato l'informazione essenziale. Inspira, trattieni, espira e conta mentre lo fai così il cervello si distrae, il sangue prende un po' di ossigeno e questo è quanto ti serve. Anche perché se lo concepisci in questa maniera puoi farlo tante volte al giorno. Puoi scaricarti in applicazione sul cellulare, se hai un orologio che ti misura la respirazione puoi di tanto in tanto. è la continuità. Ci sono anche video su YouTube dove ti fanno vedere gente che respira per un'ora. Io immagino il divertimento che ci possa essere a guardare per un'ora gente che respira. Se hai un sacco di tempo libero e un sacco di tempo da perdere quella è la strada per te. Se invece vuoi risultati pratici, efficaci, efficaci da usare tutti i giorni nella quotidianità allora questo è quanto ti serve. Respira con consapevolezza anche un minuto alla volta tante volte durante il giorno. È l'allenamento che serve non solo per ossigenarti meglio ma per avere la capacità di governare il tuo cervello. Puoi dire al tuo cervello di fare quello che vuoi e quindi di farti stare come desideri. Musica maestro Uno dei modi per gestire efficacemente lo stress è ascoltare musica. Attenzione un certo tipo di musica. Per esempio la ricerca scientifica ha evidenziato come ascoltare musica classica abbassi tantissimo i livelli di cortisolo l'ormone dello stress e quindi lo stress. Mentre ascoltare per esempio musica pop o musica jazz ha di fatto lo stesso effetto del silenzio quindi se ti piace ascoltala senza avere grandi aspettative. Tra l'altro una ricerca non scientifica ma una ricerca molto interessante che ho letto qualche anno fa aveva dimostrato come in assoluto la composizione più rilassante del pianeta fosse canone di Pachelbel seguito al secondo posto dalle quattro stagioni di Vivaldi. Secondo te questa postura secondo te va bene per farsi passare lo stress o probabilmente la peggiora? Probabilmente la peggiora perché questa è una delle meraviglie del linguaggio del corpo a ogni postura corrisponde un particolare cocktail ormonale tradotto in particolare emozione per quanto poco romantica sia l'idea in effetti ogni emozione può essere decodificata dagli ormoni che la compongono e la cosa molto bella è che tu puoi assumere una posizione da persona contenta serena tranquilla anche senza esserlo il corpo farà il resto si chiama dissonanza cognitiva le persone stressate tendono ad avere atteggiamenti corporei espressioni facciali abbastanza tipiche così come le persone di buon umore pimpanti ecco io per esempio mentre sento questi rumori mentre sto registrando un video ho di sicuro la tendenza a esprimere il mio disappunto in un modo particolare ma mi ricordo come funziona e soprattutto mi ricordo che sto facendo un video sullo stress quindi e tutto miracolosamente passa più o meno ecco parlando di posture fra l'altro una ricerca importante che tengo a presentarti è quella della dottoressa Emi Caddi la quale ha verificato salvo poi una serie di smentite ma del resto succede che alcune ricerche neuroscientifiche all'inizio vengano acclamate e poi rimesse in discussione che peraltro è uno dei motivi per cui in HCE continuiamo ad aggiornarci e ad aggiornare le nostre ricerche comunque la ricerca di Emi Caddi dicevo dimostrava come ci possono essere degli abbassamenti molto forti di cortisolo ormone dello stress e aumento del testosterone ormone invece che ci dà un po' di carica e di sicurezza in noi stessi assumendo la posizione del supereroe cioè braccia sui fianchi gambe leggermente divaricate e mento sfrontatamente in alto 90 secondi di questa posizione ti permette di cambiare gli ormoni nel corpo appunto alcune ricerche hanno visto che non sempre funziona ma nella maggioranza dei casi questa tecnica produce abbondanti risultati quindi nel caso in cui tu dovessi registrare un video sullo stress e all'esterno iniziassero a usare il martello pneumatico puoi usare una tecnica e anche l'altra tra parentesi chiunque ti dica parlando di stress che è tutto nella tua testa è solo nella tua testa che te lo stai sognando che hai tutto immaginato tu devi semplicemente limitarti a rispondere sì quindi perché è nella tua testa e questo non lo rende assolutamente meno reale anzi di fida questa è una delle cose su cui insistiamo maggiormente di chiunque ti parli di percezione di punto di vista di mappe perché di fatto ti impedisce di cambiare di migliorare di agire concretamente sulla tua realtà tutto quello che senti è reale puoi fare in modo che la tua realtà sia semplicemente diversa e decisamente più utile rispetto ai tuoi desiderata altra tecnica molto efficace e molto veloce io insisto su questo passaggio perché va bene tutto ore e ore di meditazione ore e ore di respirazione la questione è che nella vita vera a volte hai bisogno di gestire lo stress rapidamente e subito quindi strumenti pratici scientificamente verificati che ti diano risultati ve-lo-ci ecco quindi una tecnica che puoi utilizzare in aggiunta alle altre o in alternativa quando vuoi rapidamente cambiare umore e sentirti un po' più tonico un po' più pieno di endorfine che sono questi ormoni che ti fanno stare tanto tanto bene la tecnica una tecnica molto veloce e molto raffinata è questa prendi una penna e te la infili tra i denti chiaramente in questo modo in modo da muovere i muscoli zigomatici creare quelle che si chiamano per gli uomini zampe di gallina per le donne segni espressivi in questo modo il volto viene trasformato attenzione niente duck face cose del genere perché queste non producono diminuzione dello stress aumentano produzione dello stress in chi ti guarda quindi fare invece questa tecnica in cui muovi il muscolo zigomatico e i marcatori di Duchenne dal cervello un messaggio molto particolare che è stai bene e quindi mantenere questa posizione per alcuni secondi inizia a produrre nel tuo cervello una serie di reazioni che si traducono in endorfine che si traducono in benessere ricordati no duck face che inaspriscono moltissimo tutte le persone che ti osservano si ha movimenti dello zigomatico in questo modo tra l'altro per questo video abbiamo fatto una eccezione per aiutarti a gestire in modo più efficace il tuo stress per farti un po' divertire alla fine del video troverai i nostri tagli di scena quindi tutto quello che è successo durante la registrazione ti assicuro è stato molto divertente girare questo video sarà divertente per te quindi molto anti stress guardarti questo gran finale ti parlo adesso di altre due tecniche la cui validità è stata ormai ampiamente certificata due tecniche che puoi svolgere per iscritto ti suggerisco anzi di usare carta e penna alla vecchia proprio perché l'esperienza dello scrivere con la penna su carta dà al cervello una maggiore adesione a quello che sto per raccontarti quindi diventa un'esperienza più incarnata familiarizza con questo termine perché è uno dei concetti più importanti che puoi imparare ebbene diventa quindi più efficace rispetto a farla su un personal computer o su un device elettronico carta, penna e scrivere hai presente come si fa? ok la prima tecnica consiste nello scrivere un diario della gratitudine è ormai ampiamente verificato che scrivere tutti i giorni un diario nel quale annoti i motivi per cui sei stato grato durante la giornata o in cui tieni traccia di cose per cui vale la pena essere grati ebbene questo tipo di attività tende a rilassare moltissimo il cervello favorisce la produzione delle endorfine e abbassa i livelli di cortisolo all'inizio potrebbe sembrarti forse un po' complicato perché ci sta soprattutto se sei un po' stressato considera che è un esercizio che più lo fai e più diventa semplice tutti i giorni dieci minuti dedicata a questa attività l'altra attività sempre da svolgere con carta e penna proprio per i motivi in che ti ho spiegato prima consiste nella scrittura affettuosa cioè nel descrivere sempre in un diario trattisalienti positivi delle persone che ti circondano comportamenti virtuosi che tu hai messo in campo se ne hai messi in campo proprio per rendere il mondo un posto migliore focalizzarti su cose buone che sono successe quindi simile per certi versi la gratitudine questo maggiormente concentrato sulle persone che ti circondano orientarti a cercare il buono delle persone anche se può essere a volte molto sfidante lo so bene io insomma considerando alcuni dei miei collaboratori ok anche se può essere molto sfidante è comunque molto molto rilassante ti cambia fra le altre cose il cervello non la percezione che hai del mondo questo è un passaggio importante ma la stessa tua realtà e adesso parliamo di libri ti consiglio alcuni libri che qui in HC abbiamo trovato particolarmente efficaci il primo libro è di Joseph Ledoux e si chiama Il cervello emotivo un libro molto bello molto pratico poi ti consiglio il libro di Richard O'Connor si chiama Il cervello felice anche questo molto interessante molto ricco di consigli pratici poi anche a livello personale ti consiglio tutti i libri tutti di Thich Nhat Hanh un monaco vietnamita che si contraddistingue per la semplicità dello stile e per la bellezza dei suggerimenti che ti offre quindi qualsiasi libro tu legga va bene leggili tutti per sicurezza poi un libro davvero ben fatto che è il libro della dottoressa Laura Pirotta come combattere lo stress un libro anche in questo caso ricco di scienza ricco di elementi che puoi applicare concretamente nella tua vita e poi chiaramente il libro dei libri il libro che cambia per sempre la storia delle interazioni umane e che ti spiega come applicare scientificamente elementi di intelligenza comportamentale ambientale linguistica emotiva e strategica per ottenere il massimo risultato per quanto riguarda in questo caso la gestione dello stress un libro ricco di scienza ma molto divulgativo un libro di cui parlo benissimo non perché l'abbia scritto io naturalmente con il mio caro amico co-creatore di HCE Luca Mazzilli questo è HCE quando parliamo di interazioni umane le prime interazioni che noi abbiamo avuto a cuore e che hanno costituito la base importante di questo libro sono proprio le interazioni che abbiamo con noi stessi quindi da questo si parte tutto quello che arriva dopo sarà ancora più bello semplicemente perché sarà il sequel di questo fantastico libro buona lettura buon divertimento e ricordati respira come se fossi felice che il resto poi arriva da sé ora tocca a te ti ho fornito una serie di strumenti la cui validità è ampiamente comprovata questi strumenti funzionano funzionano se li usi se non li usi evidentemente no quindi la prossima volta che noi ci incontreremo online in qualche diretta o dal vivo tu o saprai gestire in modo efficace lo stress oppure avrai una serie di scuse per raccontarmi i mille motivi per i quali non hai applicato le tecniche e la cosa più affascinante secondo me è che farò finta di crederci sono strumenti state a farli funzionare se anche tu come noi credi che la conoscenza rende liberi fai qualcosa di concreto per rendere il mondo un posto un posto un po' più pulito un posto in cui le persone vivano meglio tanti piccoli gesti che possono fare la differenza il primo sicuramente è mettere un bel like a questo video considera che noi come tutti i canali youtube di successo abbiamo anche i nostri ascoltatori seriali che mettono dislike per principio come tu ben sai quando le persone non sono capaci di fare le cose mettono dislike a chi è capace di farle quindi più like noi abbiamo e meno possibilità meno respiro avranno questi personaggi un po' bizzarri e poi condividi le informazioni che io ti ho fornito sono utili pratiche funzionano conosci sicuramente qualcuno che ha necessità o voglia di vivere una vita un po' diversa e questo potrebbe essere il video che lo aiuta a intraprendere questo percorso quindi metti un bel like condividi questo video e soprattutto fai pratica fai pratica perché di cuore queste cose funzionano se le usi siamo ai saluti finali iscriviti al nostro canale youtube se non l'hai ancora fatto attiva le notifiche e guardati anche tutti gli altri video perché ogni video aggiunge un tassello di conoscenza al tuo bagaglio di strumenti così importanti e adesso contravenendo a tutte le mie regole personali ho deciso di mostrarti tutto quello che è successo durante la realizzazione di questo video così curioso quindi buon divertimento con le papere di Paolo Brozzacchiello mentre registra i video sulla gestione dello stress alla prossima e ai prossimi video ma tutte le volte devo fare sta roba posso avere anche un po' di mascara se vuoi un po' di trasparente ecco che è esattamente quello che stavo cercando non è questa roba che mi devo mettere i piccicamenti addosso cioè dovrei essere il maschio alfa perché sono un maschio alfa mi fanno anche le slate of mouth ho gli occhiari che sembrano impaccati di cemento prendi una penna e te la infili dai è serio entrambe da fare per ma c***o brutto no bruttissimo questo brutto se il lavoro sulle posture tra le tecniche più importanti che puoi sviluppare per quanto riguarda la c***o ma sei matto ma sta attento ma sei fuori mi sembro isterico in modo da muovere nel ca... no adesso dai un attimo togliete la mascherina dai che mi sembra di essere su sala di dottor mi sembra l'allegro chiurgo prendi una penna ultima uno dei punti salienti che devi imparare a padroneggiare con sicurezza è l'idea che che la real... vabbè cambiamo pattern che è meglio ok di fatto contrariamente a quello che molti ancora sostengono il tuo cervello è capace di fare solo una cosa alla... ma veramente di togliere la suoneria mentre sto registrando che io non lo so ho detto togli le suonerie gestire lo stress in modo efficace ok uccidilo così siamo a posto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti